È stata forse la giornata della consigliatura più nera quella appena trascorsa per il presidente D'Alfonso e la sua maggioranza. Dopo continui rinvii, infruttuose riunioni fiume delle commissioni ed sms mandati freneticamente agli assenti per invitarli a presentarsi per garantire il numero legale, al momento dell'appello in aula, poco prima della mezzanotte, termine ultimo per far partire i lavori, sono stati soli in 15 a rispondere. Immediata la richiesta di sospensione, ma per un errore del sistema elettronico, l'esito del voto, in un primo momento, è sembrato potesse essere annullato, nonostante un tweet dell'ufficio stampa del Consiglio che annunciava l'interruzione dei lavori ed il conseguente rinvi di tutto a dopo le ferie. Dopo un'ora di confusione, in cui i grillini hanno minacciato perfino di chiamare i carabinieri in caso di rimozione del cinguettio, come chiesto da alcuni esponenti del centro-sinistra, il buonsenso ha prevalso. La votazione è stata ritenuta valida ed il Consiglio ha aggiornato a settembre. Nulla da fare per il progetto di riordino delle province o del salvataggio dell'istituzione sinfonica abruzzese. Lo stanziamento per l'ISA è stato bloccato da veti tutti interni al centro-sinistra, dove la tensione adesso si taglia con il coltello. Esultano le opposizioni, con il centrodestra che affonda il coltello, tremono mori della maggioranza e di grillini che senza venti termini affermano che il presidente D'Alfonso è stato ferito dai se stessi consiglieri. Già, perché la frattura è tutta interna al centro-sinistra, dove una parte dei consiglieri non è scesa dall'Aventino ed anzi ha preferito andare a mangiare sul Gran Sasso e c'è chi, come per Paolo Petrucci, parla senza venti termini di operazioni di misero campanilismo. Sono indignato ed esacerbato. Quello che è accaduto ieri è una delle pagine più brutte della politica da quando ho cominciato a fare politica fino ad oggi. Si è voluto far passare come campanilistica una vicenda che di campanile non ha niente. C'è stato un problema da parte della maggioranza, l'atteggiamento irresponsabile, questa è la cosa che mi indigna di più, da parte dei colleghi di maggioranza e comunque dell'opposizione che ha fatto il lavoro suo e l'ha fatto benissimo, chiaramente, ha determinato il rischio della chiusura dell'istituzione sinfonica. Ecco, io questa cosa non ci stocco. Grazie a tutti.